Dal 2007 il consorzio Topics è lo streaming provider ufficiale del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Quest'anno, oltre a occuparsi della trasmissione di conferenze stampa e red carpet sul sito della Berlinale, ha deciso di rafforzare il suo legame con la capitale tedesca. Andrea Casalegno di Topics e Marco Boglione di BasicNet si sono incontrati e si pensava a fare qualcosa di nuovo in occasione di quest'anno. La cosa che subito è risultata chiara è che l'Apple 1 poteva essere protagonista di questa edizione della Berlinale e in particolare, invece di portare soltanto la macchina, abbiamo portato tutta una mostra che abbiamo confezionato e allestito per il negozio di Keyway qualche mese fa, che si chiama Omaggio alla rivoluzione informatica e quindi abbiamo deciso di venire a Berlino con l'Apple 1 e con questa mostra dedicata agli anni 70 e 80 in cui la rivoluzione informatica è avvenuta. Se da un lato, organizzando la trasferta della mostra Omaggio alla rivoluzione informatica al Computer Spiele Museum, Topics ha portato a Berlino un pezzo importante della storia dell'informatica, dall'altro ha voluto offrire anche uno sguardo sul presente e soprattutto sul futuro. In quest'ottica sono nati due eventi dedicati a due tematiche centrali nell'attività del consorzio, Open Data e sostegno alle start-up. La serata organizzata in collaborazione con Open Data Foundation Germany è stata l'occasione per presentare il contest Apps for Italy e fare un bilancio sulla prima edizione di Apps for Germany. Siamo molto contenti di Apps for Germany, la prima Apps Competition realizzata in Germania. L'abbiamo organizzata collaborando con altre organizzazioni, col Ministero federale dell'interno e con alcune industrie dell'ICT. Abbiamo ricevuto 80 Apps, alcune veramente interessanti e la pubblica amministrazione ha messo a disposizione più di 80 dataset su cui lavorare. Il bilancio è positivo, l'esperienza molto interessante ma c'è ancora tanto lavoro da fare per spingere ulteriormente lo sviluppo degli Open Data. Il secondo appuntamento è strettamente correlato all'attività del development program di Topics, programma di sostegno e sviluppo offerto alle start-up italiane. La serata è stata anche l'occasione per incontrare giovani start-up italiani di stanza a Berlino. Io sono arrivata a Berlino due anni fa, ero alla ricerca di una piattaforma, diciamo di un servizio online e in particolare di un servizio che offrisse una piattaforma per il fatto che io già avevo lavorato precedentemente in servizi del genere e volevo cercare una start-up, un'azienda piccola sulla quale investire le mie esperienze, il mio tempo e ho trovato Tuago. Loro in particolare hanno la ricerca di una persona italiana e ci siamo trovati nel posto giusto, nel momento giusto, quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme e io ho cominciato a occuparmi dopo pochi mesi del mercato italiano e da lì è nata tutta l'avventura e insomma sono ancora lì, mi piace molto e vorrei continuare. Ad ora non so veramente quanti ce ne siano però sicuramente ce ne saranno più di 300, questo è l'ultimo numero che ho sentito e ci sono tantissimi eventi, ogni settimana c'è quasi l'imbarazzo della scelta dove andare, cosa fare, chi incontrare e veramente se si vogliono incontrare start-up basta venire a Berlino. Allora io mi chiamo Dario Zampetti e sono il fondatore di un sito web start-up ormai che si chiama Venue.com. Questa start-up è nata come idea già più di due anni fa, poi nel 2010 ho partecipato a Working Capital e abbiamo avuto la fortuna di essere scelti, parlo plurale perché siamo io e un altro mio socio, amico, collega di nome Massimo e niente da lì abbiamo avuto la fortuna di essere incubati presso Topics che appunto ci ha dato questo anno di incredibile servizio posso dire perché sia dal punto di vista umano che proprio dal punto di vista delle macchine utilizzate è estremamente performante, è andata veramente molto bene. In questo modo siamo riusciti a trovare chi il sito l'ha trovato interessante, che ha deciso di finanziarlo, quindi siamo riusciti a produrlo, metterlo online e adesso stiamo insomma vivendo quella fase iniziale che vivono tutti gli start-upers come me, in cui cerchi di capire la tua idea come va, come non va e come può essere sempre meglio.